7 dicembre 2009, sto attraversando la terra di nessuno tra il Laos qui di fronte e la Cambogia alle mie spalle è una vera frontiera, non c'è nessuno in mezzo alla foresta è una strada che hanno appena asfaltato il 7 dicembre 2009, sono a Pompapè, le grandi rapide città 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 a Pompapè, le grandi rapide città